È cambiato moltissimo rispetto al 23 maggio del 1992, lì avevamo uno Stato in enorme difficoltà, avevamo un'autostrada esplosa, avevamo i corpi di giovani poliziotti per strada sostanzialmente, il corpo di Giovanni Falcone e di sua moglie all'ospedale al Policlinico di Palermo, è una situazione di dramma dello Stato, oggi la situazione è molto diversa, purtroppo e per fortuna anche grazie a quello che è accaduto dopo, col 23 maggio del 1992. Se guardiamo la situazione attuale dei capi di Cosa Nostra, i sopravvissuti sono tutti in carcere tranne uno, non ci sono più gli omicidi che inseguinavano Palermo in quegli anni, l'organizzazione in grossissime difficoltà dal punto di vista materiale, del reclutamento di uomini, dei fondi, tutto questo perché l'azione dello Stato in questi 28 anni è stata durissima, i risultati si sono visti, probabilmente con qualche errore, con qualche difficoltà, con qualche omertà, ma è incomparabilmente diversa in termini di legalità la situazione dell'Italia e della Sicilia di oggi rispetto a quella di allora.